Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sucede a veces sucede a veces que uno se enamora de los árboles por la sombra que produce la fuerza de sus ramas o la dulzura de sus frutos sucede también a veces que el árbol que uno ama se convierte en hombre y uno ama sus ideas sus labios su corazón, sus brazos o el sexo, porque los árboles tienen sexo, y sucede después a veces que el árbol que uno ama está tan cerca que asombra asusta, deja de ser un árbol y parece un sol que deslumbra los ojos enamorados y sucede entonces a veces que uno no sabe si cerrar los ojos y esconderse o contemplar al árbol hombre, sol hasta quedarse ciego sucede 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 que sucede 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 con una Una pared scurre storie, contempla fija, immobile, il passo lento dei giorni. Il tempo non è generoso, marca la pelle e lastima i nostri entrami. La pared permanece, riviste di color, quadri, libri. La planta la alegran, però non può essere la mia. Va guardando, l'eco di llantos contenidos e risi che sbordano, il gemere dei amanti e il latino dei nostri corzoni. Hai storie che non si esqueci, storie che il tempo non può portare. Estan scrittati nella pared, nel suo cuore, è inutile pittare, mille colori non borra in sua memoria. Ella bien lo sape, non è che con il tempo duela meno, è che uno si acostumbra a vivere con il dolore. Stena. Stena istegna 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 istoria, e, zamerev, nabludaia medellinio postupi dnei. A vremeni velicoduchna, e внутри, e snaruzzi, oставляia attraverso le sue. A stena все sta, si tratta, 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 ma non è già non è sbagliato. Stena. 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 Bellino. Bellino. Chiss15 tombià. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il 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 corso gratuito è www.mesmerism.info